Buonasera a tutti, sono Zargo Abbiamo le canne in acqua, stiamo aspettando solo la prima mangiata La Renicola rimane, stiamo aspettando solo la prima mangiata Quale partirà per prima? Vediamo quale partirà per prima Luna piena Guardate che meraviglia Mare Paoloso Per ombre al castello Stavo Uluso Stavo Uluso Stavo Uluso Andiamo a mangiare qualcosa stasera A momenti dovrebbe mangiare A minuti e stampo il primo marmorone Ok? A dopo Ciao Ciao